Mi chiamo Elio Sermoneta, sono un medico, mi occupo di termine generico omnicomprensivo di medicina naturale, sono un po' uno specialista di acqua informata, sono oltre 15 anni che utilizzo per le terapie anche un'acqua con le informazioni grazie all'istruzione e all'apporto di amici fisici e ingegneri. Questo corso voglio trattare della salute e degli aspetti comprensivi della salute che riguardano non solo la parte organica o fisica nella sua totalità ma anche la parte psicologica e innovazionale e quindi quella che riguarda le priorità di una persona e la sua concezione di vita che influisce grandemente sia sullo stato d'animo che come ripercussione sulla funzionalità organica generale. Parleremo quindi del metabolismo, parleremo della fisiologia metabolica e poi affronteremo gli aspetti della parte conscia e della parte inconscia e quindi le meraviglie dell'acqua e delle sue potenzialità terapeutiche relativamente alla persona, visto che noi siamo in gran parte acqua e le scoperte sull'acqua sono recentissime. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.